L'accusa è quella di aver fatto pressione su tre testimoni durante gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto sistema Trani. Per quell'accusa due magistrati della procura tranese, Alessandro Pesce e Michele Ruggero, andranno a processo il 12 novembre prossimo davanti al giudice monocratico del Tribunale di Lecce, Alessandra Sermarini. A chiedere il rinvio a giudizio dei due magistrati, il PM di Lecce Roberto Alici e il procuratore capo Leonardo Leone De Castris. Il capo di imputazione è quello di concorso in tentata violenza privata, in un caso anche aggravata. I fatti contestati a Pesce e Ruggero risalgono all'ottobre del 2015. Nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto sistema Trani sentirono, in qualità di persone informate dei fatti, tre referenti di una società specializzata in appalecchiature per la rilevazione delle infrazioni stradali. La procura di Lecce contesta ai due magistrati tranesi di aver abusato dei poteri e violato i doveri inerenti alla loro qualità di magistrati del pubblico ministero, costringendo con modalità intimidatorie e violenze verbali i tre ad accusare se stessi ed altre persone coinvolte nell'inchiesta di rapporti illeciti con l'ex comandante della polizia locale di Trani, Antonio Modugno. A giudizio della procura salentina, i due magistrati avrebbero costretto il rappresentante legale della società a dichiarare di aver pagato o comunque di essere a conoscenza del pagamento di tangenti in favore di Modugno, ma anche l'interrogatorio con un amministratore di fatto dell'azienda non sarebbe andato in maniera diversa. I magistrati tranesi, si legge nell'atto di citazione della procura di Lecce, se la persona indagata non avesse dichiarato quanto intimato e suggerito da loro a proposito dell'avvenuto pagamento di mazzette a seguito della costrizione da parte del comandante Modugno, avrebbero minacciato che ci sarebbe stata una cella pronta anche per lui. Tra le minacce rivolte all'uomo c'erano quelle del sequestro dell'azienda e di un'ordinanza di costedia cautelare a suo carico.